Diamo il buongiorno a Davide Giacalone con noi per la rassegna stampa. Davide, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Allora, la prima del Corriere della Sera, Mezza Italia, va verso il Rosso, telefonata tra il Premier Draghi e Ursula von der Leyen per accelerare sui vaccini, elezioni rinviate per il virus, la prima del messaggero, vaccinazione, ecco il piano. L'intervista al generale Portolano che guida la task force, pronti a immunizzare porta a porta. Davide. Allora, ci sono alcune cose che cominciano a emergere. Intanto la situazione di fatto, ieri sera abbiamo chiuso utilizzando il 72.1% delle dosi disponibili, significa che nei frigoriferi ieri sera c'era 1.823.534 dosi, un po' meno di ieri, diciamo così, quindi è andata bene da questo punto di vista, ma come capita bene, considerato che abbiamo inoculato vaccini a 4.718.000 italiani, avere 1.800.000 nel frigorifero significa che quasi la metà di quello fatto potremmo replicarlo entro domani. Quindi c'è un problema certamente di organizzazione, bisogna mettere in campo tutta la logistica militare possibile e gli operatori di mercato. Si comincia a dire, a fare attenzione anche ad alcune cose, per esempio se si lavora semplicemente sulle liste dei prenotati o dei convocati, per la precisione, che sono prevalentemente gli anziani, specialmente con il vaccino Pfizer, se comincia a prepararlo nelle siringhe e poi qualcuno non si presenta, quella roba si butta, che è una roba che grida vendetta, a quel punto meglio farlo al primo che passa, ma veramente il primo che passa, se non passa chiamatelo, cioè qualcuno che, perché ci guadagniamo tutti, e teniamo anche presente che regione per regione, leggo su un messaggero che è molto attento in questi giorni su questo tema, regione per regione ci sono anche diverse priorità, per esempio, che so, gli avvocati stanno in cima in alcune regioni, cosa assolutamente irragionevole e insensata. Si parla di produzione italiana, benissimo, straordinario, eccezionale, produciamo anche in Italia vaccini, però una cosa mettiamola in testa tutti, così evitiamo di dire sciocchezze, non c'è un solo paese al mondo che produca i vaccini interamente dentro i propri confini, non esiste, per il semplice motivo che per fare un vaccino servono una serie di componenti, quindi la catena globale dell'approvvigionamento delle cose rimane tale e chiunque la sfasci cancella i vaccini, quindi attenzione e soprattutto, visto che parliamo di produzione, c'è una, ci sono delle dichiarazioni, una sorta di intervista che il direttore del giornale, Sallusti, in realtà è una chiacchierata, fa con Don Pei, che è un industriale del farmaco ed è uno che veramente se ne intende, e Don Pei dice con grande chiarezza quello che qui da giorni e giorni ripetiamo, chiunque conosca minimamente l'andamento di queste cose sul mercato sa che tra qualche settimana noi saremo inondati di vaccini, vogliamo dire maggio, entro maggio avremo una quantità enorme di vaccini, quello che bisogna, perché è così, perché sta nei contratti, perché è la realtà, se non salta per aria tutto andrà così, quindi il nostro problema serio è quello di organizzarci in modo tale che aprile, maggio, giugno siano mesi di vaccinazioni a rotta di collo, senza interruzioni, a milionate, perché questa è la sola strada che ci porta fuori da questa, e questo non significa che il vaccino è miracoloso e risolve tutto, ma che non abbiamo altra arma seria oggi che non i vaccini. Davide, 3 milioni è il numero degli alunni rimasti a casa dal primo marzo per le ordinanze regionali e le disposizioni ministeriali, 73,3% è la percentuale degli studenti che da lunedì studieranno a casa con la didattica a distanza, un milione è il numero dei docenti e del personale scolastico che dovrà essere vaccinato nei prossimi mesi e il 20% è la percentuale dei dipendenti della scuola a cui è stato già somministrato il vaccino. È emergenza e istruzione, come si fa? Ma è una cosa, quella è una tragedia. Allora, le chiusure non si potevano e non si possono evitare, si potevano forse organizzare e vivere meglio, non c'è alcun dubbio che si sarebbe potuto e dovuto intervenire con più precisione ed efficacia sui trasporti, quindi la classe, ma come ci arrivi e come te ne vai e ciò non di meno, voglio dire, è inutile girarci attorno, non si potevano e non si possono evitare le chiusure. Quello che va chiuso per sempre è questa storia della DAD. Oramai, diciamo così, è diventata una roba insopportabile. La didattica a distanza, bisogna accedere, ma questo è tempo che lo diciamo, ma va fatto, bisogna accedere a una didattica digitale vera e, appena sarà possibile, occorre avere le scuole aperte, non fino a giugno, tutta l'estate, tutta l'estate, l'autunno, la sera, riuscire ad averle aperte come centri di aggregazione, come posti dove ci possa, per i studenti naturalmente, posti dove funziona il Wi-Fi, dove ci sono le connessioni ai terminali, dove ci sono le lezioni, non stop, perché se lo fai la didattica digitale vera è come guardare un film su una piattaforma, è come guardare un podcast di RTL, non c'è un orario. A che ora lo vuoi vedere? Vai in onda il podcast. Quando ti pare a te? A qualsiasi ora. Naturalmente stiamo parlando di istruzioni, quindi di roba dedicata. E anche le vecchie, sane, romantiche biblioteche, anche quelle, voglio dire, aiutano. Quindi quella roba va fatta. Costa un po' di più di sorveglianza e di apertura, ma è un fatto vitale per le scuole che vanno assolutamente aiutate. Andiamo anche sul Sole 24 Ore, Davide. Indennizzi, intanto l'apertura, indennizzi a 2,7 milioni di partite IVA. Insomma, molti aspettavano anche questa notizia. Aiuti entro il 30 aprile a professionisti autonomi con fatturati fino a 5 milioni. Allo studio l'opzione tra credito d'imposta e sussidio. Addio ai codici a te, che se ne era già parlato nei giorni scorsi. E poi vaccini verso il pollo italiano, ma serviranno sei mesi. Draghi chiama la von der Leyen. Ancora sotto patto di stabilità e aiuti pubblici. Pronta la proroga UE al 2022. Sarebbe questo l'orientamento di bilancio di Bruxelles che è contenuto nella sua comunicazione. Esatto. Allora, intanto ci sono due aspetti che possono forse sfuggire ad alcuni, ma a molti no, perché sono la parte della loro vita. Cioè, nel nuovo impostazione dei cosiddetti ristori, la sparizione dei codici a teco si accompagna... E quindi l'imitazione... Sapete che non funzionava il codice a teco? Perché tu nel codice a teco sei stato chiuso e quindi hai diritto al ristoro. Sì, ma i tuoi fornitori magari si trovano in un altro codice a teco che non sono stati chiusi, ma hanno chiuso lo stesso. Perché? Perché? Perché se hai chiuso tu, i fornitori non ti hanno fornito, quindi sono crollati. E allora si creavano una serie di problemi. E in più, quei soldi venivano erogati dall'Inps. Adesso passa all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate... Da qui appunto le compensazioni che possono essere fatte. Io ho un debito, tu mi devi dare dei soldi, li compensiamo e facciamo prima che così ci sbrighiamo. Quindi questo passo avanti è importante. Sullo sfondo c'è il patto di stabilità. Altri due anni. Quando si dice che il patto di stabilità, cioè i vincoli di bilancio, che sono i vincoli della natura, cioè del mercato, 2 più 2 farà sempre 4, ma soprattutto 2 meno 3 farà sempre meno 1. Questo è il problema. E i debiti prima o dopo si pagano. Quando si dice altri due anni, non è che dice vabbè, allora meno male, va. Altri due anni in cui possiamo spendere e spandere. No, attenzione, perché poi arriva la botta. La botta può avere diverse... Se qualcuno sapesse esattamente cosa succede dopo, da una parte prenderebbe il Nobel per l'economia e dall'altra diventerebbe ricchissimo perché si metterebbe avanti col lavoro. Però possono essere tante cose che possono capitare. Quando hai un debito esagerato può capitare che esploda l'inflazione. Per esempio, negli Stati Uniti i mercati hanno avuto un attimo di timore sull'esplosione dell'inflazione. Il che significherebbe, per esempio, che per chi ha risparmi liquidi, come gli italiani, che ne abbiamo tantissimi, una tragedia. Prende tutto fuoco da quel punto di vista. Oppure può succedere che, come si dice, il cavallo non beva. Cioè c'è da mangiare, c'è da bere, ma il cavallo non beve lo stesso, c'è la produzione che non riparte, quindi gli aiuti si sprechino. In ogni caso, in questa stagione, meno male che puoi continuare ad avere dei margini molto elastici di bilancio, ma molta attenzione dove si spendono i soldi e questo, signori, è il vero banco di prova del governo Draghi perché è nato per questo e a quello sarà atteso la prova. Dalla prima del Sole 24 Ore di nuovo, ma è di spalla, leggiamo questo titolo, la sentenza a freno della Cassazione al nuovo abuso d'ufficio. La Cassazione prova a ridurre l'impatto di questa riforma operativa dallo scorso luglio e lo fa con una sentenza che estende il concetto di discrezionalità delle scelte amministrative. Davide, di che si tratta? Si tratta del fatto che quando il legislatore pensa di poter provvedere al rimedio di un problema che ha creato, cioè introducendo un reato di abuso d'ufficio piuttosto vasto, allora prova a tornare indietro però senza dover farsi scrivere dai giornali che è tornato indietro perché sennò poi deve fronteggiare il fatto che dice ecco, allora vogliono favorire la corruzione. Poi, l'interpretazione della legge, ognuno ci legge è quello che gli pare praticamente perché è diventato un testo diciamo così abbastanza fisarmonico, abbastanza elastico. Il risultato qual è? Il risultato è che poi alla fine non firmano, cioè se il funzionario non firma, se l'ipotesi di reato comporta una discrezionalità della scelta per cui io posso firmare o non firmare, quindi se firmo ho deciso di firmare, non è che è il mio dovere firmare, ho deciso che secondo me quella cosa è giusta e quindi faccio, corro un rischio, io non firmo, dice ma allora così rifiuti la firma? No, non ha rifiuto la firma, io semplicemente la lascio là, qualcosa succederà e il risultato è che si blocca tutto. Quindi, se vuoi mettere mano a questa faccenda, intanto devi premiare le persone che funzionano bene e non solo, diciamo, portare in galera quelli che si fanno corrompere, ma soprattutto non puoi lasciare sotto processo per dieci anni a carico suo del suo stipendio un funzionario per una cosa di questo tipo, quindi riscrivi per bene queste leggi assumendoti la responsabilità di dire io mi assumerei la responsabilità degli ieri teani. Ragazzi, l'importante è che la roba cammini. Poi, se ci sono delle patologie le scopriamo e sotto processo una persona ci può stare al massimo per due anni, non è che ci può stare per tutta la vita e se invece non ci sono le patologie l'importante è che i porti si facciano, i ponti si costruiscano, le strade siano terminate perché se no così buttiamo via i soldi. Pagina degli esteri, caro Davide, pagina 15 del quotidiano La Repubblica, strappo con il Partito Popolare Europeo, Orban, che è il premier ungherese, lascia il gruppo all'Europarlamento, ha anticipato i temi sull'emittente ovviamente dell'espulsione e ora potrebbe aderire ai conservatori di Giorgia Meloni. Che significa? Allora, intanto il partito di Orban era già sospeso all'interno del Partito Popolare Europeo e quindi era in attesa diciamo in qualche modo di una decisione. Orban anticipa la decisione del Partito Popolare Europeo un partito al governo che minaccia l'indipendenza dei giudici dei giudici non delle procure come in Italia dei giudici cioè quelli che devono giudicare se sono colpevoli o innocenti è difficile che faccia parte della famiglia europea quindi lui anticipa questa decisione esce dal Partito Popolare Europeo e sembrerebbe destinato ad aderire al gruppo dei conservatori il gruppo dei conservatori che è presieduto da Giorgia Meloni quindi italiana ovviamente ma era stato creato da chi? Dai conservatori inglesi che però non ci sono più perché la Brexit ha portato fuori dal Parlamento Europeo gli inglesi ergo raccoglie altre formazioni politiche in Europa questo pone il problema serio al centro-destra che hanno tre partiti sono parte al Parlamento Europeo di tre gruppi parlamentari diversi attualmente due fanno parte della maggioranza anzi sono al governo e uno è all'opposizione all'epoca del governo Conte 1 uno era in maggioranza e due erano all'opposizione quando al prossimo giro si presenteranno dicendo non sembra ma noi siamo veramente profondamente uniti magari accompagnino tutto ciò con un po' di senso dell'ironia e dell'umorismo e si trovi qualcos'altro da dire perché detta messa così molto unito sto centro-destra non è dal centro-destra ci spostiamo anche su Movimento 5 Stelle e PD abbiamo notizie di ciò anche a pagina 14 e 15 del Corriere nello specifico sul movimento sciopero antirusso guerra sui soldi nel Movimento 5 Stelle Conte chiama i parlamentari che succede ai pentastellati? è più o meno la stessa cosa diciamo così naturalmente tradotta dall'altra parte no? perché anche adesso il Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dicono ma noi abbiamo un'alleanza strategica se ci avete dei marli pancia che non finiscono mai sia da una parte che dall'altra perché? perché fino a qualche mese fa non è che eravate solamente due movimenti diversi che rimangono due movimenti diversi non eravate solamente uno al governo e l'altro all'opposizione no raccontavate a voi stessi e agli altri che eravate antitetici cioè che mai e poi mai vi sareste trovati insieme e che anzi il principale obiettivo del Movimento 5 Stelle era spazzare via la classe di governo della sinistra e viceversa quello del Partito Democratico era spazzare via i populisti qualunquisti del Movimento 5 Stelle della circolazione poi questo dice siamo uniti e ho capito allora vedo che si ragiona si torna a ragionare di sistema elettorale e con il governo Draghi cominciano a dire beh ma forza si potrebbe pensare al maggioritario vedete tutti i sistemi elettorali possono funzionare bene o male a seconda dei costumi nazionali il concetto è questo ma se voi pensate ma lo dico sia al centro-destra che al centro-sinistra se voi pensate di portare gli italiani un'altra volta alle urne prima o dopo in cui si dice c'è un premio di maggioranza e siamo molto uniti noi al centro-destra in tre gruppi parlamentari diversi siamo molto uniti noi della sinistra mentre ci odiamo fermamente e vogliamo farci fuori a vicenda votate per noi contro di loro beh tanto lo sappiamo tutti che dopo tre settimane avrete litigato nella maggioranza e considerato che siete al momento al governo assieme trovatevi qualche altra cosa da dire che non sia votate per me contro gli altri perché vi informiamo ufficialmente che siete assieme termina qui la rassegna stampa di oggi Davide Giacalone grazie ti ritroviamo domani mattina alle 7.10 a domani buona radio a tutti